Un servizio pubblico che sostituisce gli uomini di prodotto con gli uomini di processo? Io ho grande rispetto per gli uomini di prodotto, però servono anche gli uomini di processo. No, no, quelli servono tantissimo, sono tutti lì, sono più o meno 9.000 o 10.000, quindi non c'è un problema. Io però sto sviluppando una grande passione per gli uomini di prodotto, tant'è che sto pensando di mettermi intorno a me un pensatoio di persone. Dai, penso di chiamare lei, penso di chiamare Michele Guardi, penso di chiamare Costanzo, anzi devo dire che Guardi e Costanzo l'ho già chiamato, adesso chiamo pure lei. No, no, ma tenga loro che sono più...